ognuno di noi ha desideri la nostra lista personale di sogni e aspirazioni la creazione potrebbe avere i suoi piani per noi ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente possono essere stravaganti o banali ambiziosi o di poco conto possono essere in opportuni possono essere troppo personali per essere condivisi ma sono nostri e per noi sono reali sono preziosi sono urgenti e profondamente importanti ecco un dono speciale da sad guru un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione è un dono che permetta ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati sad guru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto meditazione chic shakti per il successo chit shakti be the maker of your own destiny chit shakti si l'autore del tuo destino come esseri umani tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente quindi la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione nella realtà le meditazioni chic shakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino che tu possa conoscere il tuo destino che tu possa conoscere il tuo destino tenere i mani e gambe non incrociate Appoggia le mani sulle cosce Palmi rivolti verso l'alto Ben rilassate Chiudi gli occhi Siedi comodamente Fai un respiro profondo E rilassati nell'espirazione Fai un altro respiro profondo E mentre espiri Rilassati ancora di più Fai un terzo respiro profondo Questa volta il rilassamento deve essere totale Ora Contrai i muscoli dei piedi Solo i piedi Contrai 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 Rilassa Ora contrai i polpacci Solo i polpacci Dalle caviglie alle ginocchia Contrai Contrai Tense Contrai Relax Rilassa Ora Contrai le cosce Contrai Tense Contrai Relax Rilassa Tense 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 Contrai Tense Mentre Tense Rilassa Ora contrai i muscoli del torace Delle spalle e della schiena Contrai Tense Contrai Tense Mantieni la tensione Rilassa Contrai le braccia Contrai Contrai, contrai, stringi pugni e crea tensione, contrai, contrai, relax, rilassa. Tense your neck muscles, contrai, 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 relax, rilassa. Tense the muscles on your face and the back of your head, contrai i muscoli della faccia e della nuca, fai una smorfia e crea tensione, contrai, 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 relax, rilassa. Fai un respiro profondo e mentre espiri, rilassati. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo, dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Vedi te stesso scalare la cima di una montagna. Senti l'aria fredda e mentre ti arrampichi, lascia che il tuo respiro diventi profondo, rapido e affannoso, così. Respiro in questo modo. Respiro profondo, rapido e affannoso, profondo e rapido. Continua a respirare profondamente e rapidamente. A presto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso sei arrivato in cima alla montagna. Il tuo respiro continua affannoso, a rapide boccate. Sei in cima a un'altissima montagna. Vedilo chiaramente, sei sulla vetta di un'altissima montagna. Mentre guardi giù... Alle altre cime più basse, alle vallate e alle case di coloro che non osano arrampicarsi. Lentamente il tuo respiro torna normale. Fai un respiro profondo. Fai un respiro profondo. Continua a sentire... Continua a sentire quel gusto speciale di essere sulla vetta. Vedi un punto di luce intensa apparire sulla tua fronte. Vedi questo punto di luce intensa. Guardalo crescere in un fascio di luce. Il punto di luce intensa. Il punto di luce della tua fronte si proietta in un nitido fascio di luce bianca. Che aumenta. È circa 10 centimetri fuori dalla tua fronte. Vedilo crescere. Un metro di lunghezza. Un metro di lunghezza. 10 metri. 10 metri. 100 metri. 100 metri. 1000 metri. 1000 metri. Vedi questo fascio di luce. Un fascio di luce bianca. Un fascio di luce bianca intensa. Che si proietta oltre l'orizzonte. Nell'infinito. Un fascio di luce bianca intensa. Un fascio di luce bianca intensa. Un fascio di luce bianca intensa. che si proietta oltre l'orizzonte. Nell'infinito. Vedi questo fascio di luce. Un fascio di luce bianca intensa. Un fascio di luce bianca intensa. Che si proietta oltre l'orizzonte. Nell'infinito. Ora. Set tre obiettivi che desideri raggiungere. Ora. Formula tre obiettivi che desideri raggiungere. Un obiettivo a breve termine. Qualcosa che vuoi realizzare nei prossimi due o tre mesi. Un obiettivo a medio termine. Un obiettivo a medio termine. che vuoi realizzare nei prossimi dieci, quindici anni. Per primo. Stabilisci l'obiettivo a breve termine. Vedilo chiaramente. Sei specifico. Che vuoi realizzare nei prossimi tre mesi. Vedilo chiaramente. Sii specifico riguardo a ciò che vuoi realizzare. nei prossimi tre mesi. A specific goal. That you wish to accomplish in the next three months. Un obiettivo specifico che vuoi realizzare nei prossimi tre mesi. See what you really want. Vedi quello che vuoi davvero. Hold it in your mind. Trattienilo nella tua mente. And see it being accomplished. E vedilo mentre viene realizzato. Now. Ora, l'obiettivo a medio termine. Vedi ciò che vuoi realizzare nei prossimi due, tre anni. Vedi ciò che vuoi realizzare nei prossimi due, tre anni. Sì specifico riguardo a ciò che vuoi realizzare. Vedi chiaramente ciò che vuoi realizzare nei prossimi due, tre anni. Un obiettivo specifico. Vedi chiaramente. Vedi chiaramente ciò che vuoi realizzare nei prossimi due, tre anni. Un obiettivo specifico. Visualizzerò chiaramente. E vedilo mentre viene realizzato. Senti cosa si prova avendo realizzato il tuo obiettivo. La gioia che ne deriva, il potere che ne deriva. Sentilo. Vedi il tuo obiettivo a medio termine che viene realizzato. Ora, un obiettivo a lungo termine che vuoi realizzare nei prossimi dieci, quindici anni. Vedilo chiaramente. Sì specifico riguardo a ciò che vuoi realizzare nei prossimi dieci, quindici anni. È meglio che il tuo obiettivo a lungo termine sia un processo più inclusivo. La cosa migliore è che l'obiettivo a lungo termine includa il benessere di tutti. Visualizzalo chiaramente. Un obiettivo specifico che vuoi realizzare nei prossimi dieci, quindici anni. Vedilo chiaramente. Trattienilo nella tua mente. Vedilo mentre vieni realizzato. Senti la gioia di averlo realizzato. Il potere che deriva dall'aver raggiunto il tuo obiettivo. E il benessere che diffonde intorno a te. Vedilo chiaramente. Vedilo il tuo obiettivo di lungo termine che si realizza. Senti la gioia che ne deriva, il potere che ne deriva e il benessere che si diffonde. Senti la gioia di averlo realizzato. 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 Senti la gioia di averlo realizzato.